Eccoci qua come promesso, l'ho guardato dopo la notifica, quindi non so chi sia bene il cinquecentesimo, il cinquecentunesimo followers, quindi mando un saluto speciale a Cristina Monatti e ad Anche se non lo sai, che sono i due ultimi che si sono aggiunti, ma ringrazio anche tutti voi che veramente mi seguite su Twitter, grazie per la vostra carina di me, per il vostro abbraccio e grazie per avere tanta pazienza nel seguire tutte le pirlate che posto e che mando non solo sul mio profilo ma anche agli amici di Edicola Fiore e a tutti gli altri, grazie veramente di cuore, significa tantissimo per me e come promesso, siccome io mantengo sempre le promesse, un bacio digitale a Cristina e anche se non lo sai, ciao!